Buongiorno, sono Daniela Cetti e sono la presidente di Colori dell'Anima che è un'associazione culturale che opera a Sesto Calende Varese dal 2012. Ci occupiamo di crescita personale, di aiuto alle persone, al benessere delle persone, alla qualità della loro vita, quello che possono migliorare nella loro quotidianità, nelle loro relazioni, nel lavoro, nel comunicare con gli altri. Mi ha aiutato a conoscere meglio i social, a capire meglio anche l'utilizzo delle immagini e in questo momento anche l'utilizzo dei video perché in fondo Luca mi sta aiutando a migliorare la qualità dei miei video, a prendere coraggio a mostrarmi e quindi ho imparato molto anche come pubblicare un articolo nel blog che mi ha aiutato a utilizzare meglio anche il mio sito, che comunque lavora anche quello in Wordpress e quindi la sinergia delle due cose riesco a gestire meglio anche il mio sito www.coloridellanima.org e lavorare su entrambi, sia sul mio sito che su entrambi fronti. Sì, mi sono arrivati dei nuovi iscritti all'associazione che la tessera è 15 euro annuale ma facciamo tantissime cose, tantissime iniziative gratuite, tantissime offerte, tantissime in beneficenza, altre a pagamento perché dobbiamo comunque anche trarre profitto per poter poi investire anche in cose che fanno crescere l'associazione. Grazie 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 Grazie